Ancora protesta in tutto il Venezuela e altri morti. Questa volta a Valencia. Le vittime sono Jesús Enrique Acosta, studente di ingegneria dell'Università di Carabobo, raggiunto da una pallottola alla testa, probabilmente sparata da una banda di motociclisti, che ha seminato il panico tra chi manifestava nel rione la Isabelita. Guillermo Sanchez, colpito al petto da un colpo di arma da fuoco nello stesso rione, e il capitano della Guardia Nazionale, Rasmo Ernesto Braccio Bravo, quest'ultimo freddato nel quartiere di Naguanagua. I feriti d'arma da fuoco, ora ricoverati nei vari ospedali di Valencia, sono cinque. Innumerevoli gli arresti. Sono ora 25 i morti in tutto il paese da quando sono iniziate le proteste circa un mese fa. La morte dello studente dell'Università di Carabobo ha ravvivato le polemiche tra il governatore Francisco Ameliac e il sindaco di San Diego, il connazionale Enzo Scarano. Anche Maracaibo, nello stato petrolifero dello Zulia, Por la Mar, nell'isola turistica di Margarita e Ciudad Ojeda, sono state scenario di manifestazioni di malcontento, represse dalla polizia con un uso eccessivo della forza e con un saldo di feriti e un numero non precisato di arresti. Si teme che tre manifestanti in stato di fermo, come già accaduto nelle scorse settimane, possano esserci giovani italo-venezolani. Intanto nella capitale, cordoni di polizia in assetto antisommossa con l'ausilio di blindati anfibi della Guardia Nazionale sbarravano il cammino all'ennesimo corteo di studenti dell'opposizione e gli impedivano di avanzare e di raggiungere gli uffici della Defensoria del Pueblo. All'entrata dell'Università centrale del Venezuela, nei pressi della piazza Venezuela, manifestanti e polizia si affrontavano in una battaglia campale, con lanci di pietre e molotov da un lato e bombe lacrimogene e pallottole di gomma dall'altro. Nessun problema, invece, per il corteo organizzato dagli studenti filogovernativi, che dalla piazza Brion raggiungeva pacificamente la sede della Defensoria del Pueblo nella piazza Morelos. Come è ormai diventato consuetudine, nelle principali città del paese, all'imbrunire, specialmente nei quartieri di classe media, sono state innalzate barricate e manifestanti, polizia e Guardia Nazionale sono stati protagonisti di violenti scontri. Grazie.